bene ragazzi eccoci a un nuovo episodio di triangle strategy allora siamo nel paese del sale adesso ci facciamo un po di giri nella città mi sembra eccoci a un po di giri non mi sembra che ha ricevuto specialmente da che il ministro lila è venuta Sì, è vero che i nostri ricercatori non sono mai riusciti. Oh Oh What a splendid facility you have here I can see why your nation excels in the medical art Normally only ministry staff are allowed in Having outsiders view our work Is unfrestered Non possiamo ringraziare te abbastanza per la tua generosità. Se ho sentito corretto, sembra che stai studiando... E' quello che stiamo. In modo da curare le mali e le mali, dobbiamo mettere i nostri spettatori. Anche le mali che si trattano non curabili in altre nazioni? Non c'è un miracolo di panacea in questo mondo, ma noi vogliamo pensare che nulla sia impossibile. Superbile. E... E sarai dispiace di partire questi risultati con altri? Se avessi ottenuto? Se credi in le insegnazioni di Dio, sì. Almeno... E' quello che spero di dire il Signore di Dio. Quindi per sapere i loro segreti ci dobbiamo convertire. Sperimento. Sperimento. Ma devo tornare a lavorare. Sei libera per guardare. Ma io ti chiedo di non entrare le zone restriccate. E che credi che non ci sia libero in la banca. Ma io ti chiedo di direttere le zone restriccate. Perfetto, se non ci sia libero in la comunità. c'è l'aria di ribellione ma ha detto che non poteva parlare ma ha parlato non poteva parlare è interessante ci sono articoli che li possiamo trovare soltanto qui nelle botteghe quindi ci dovremmo stipare i soldi anche per queste escursioni non poteva parlare non poteva parlare non poteva parlare adesso si capisce perché ce l'hanno mi usano come schiavi ma poi che colpo hanno compiuto non poteva parlare 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 sì forse ha ragione ho dato una domanda stupida poteva impostarla meglio va bene vediamo cosa vende questo ma buono c'ha il ferro pietra legno fibra se voglio far salire di un grado le abilità mi sa che devo comprare questi ah ma c'è pure la magia però le magie sono belle belle potenti non so se mi conviene è già da d'oro prende ah ok per infiammare ne ha dieci secondo me questa la vendono solo qua non so se mi conviene speriamo di aver preso la roba giusta la roba giusta ok quindi avevo fatto bene a prendere le giade queste le vende pure lui non ci avevo fatto caso ok ma non ci mancano i soldi 500 questo ci vuole pure il legno fibra ok la maga la posso fare ah questo ha 1 e 1 un po' Grazie a tutti Grazie a tutti Sì, vabbè, quello nel frattempo muore Che è successo? Morto qualcuno? Che è successo? No, a livello consigliato 4, ma io sono ancora 3, quindi secondo me che conviene che mi faccio con le missioni inventate là? Ci stanno nell'accampamento? Così magari saliamo un po'? Sai che era qui? Sì, dai, proviamo Grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ho visto che questo è il livello 2, manca poco per salire. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Your orders. Grazie a tutti. 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 I will do what I must Suffer Victory is within reach My turn Defeat is not an option You're open There is no mercy on the battlefield Your defense is just as I plan This isn't good Your wounds are in I will end this Oh, what do you mean? Oh, what do you mean? I've got a fibra Oh, what do you mean? Oh, what do you mean? No, what do you mean? If we go to the hardware Ah ok, noi abbiamo una da parte e una dall'altra. Ah, qui c'è un materiale. Ah, abbiamo un mago. Secondo me ci vuole un arciere qua. Ah, qui c'è un materiale. 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 la scuola si è inculso la scuola non è un'opzione Grazie a tutti. 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 No... 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 Time to take flight! This ends now! Do not underestimate me! Oh no! I will end this. Time to work. 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 I need this I have to survive Take this How annoying Cool heads shall prevail I see a path to victory My turn I fight for peace Please heed my call It worked Time for some research I hate you I hate you I hate you I will end this. Allow me. Victory is within reach. Allow me. Victory is within reach. I won't lose. I won't lose. I won't lose. You're open. Forward. Perish. How annoying. Your lifeblood will paint my soul. You leave me with no recourse. Dust the guards. You must save me. Let us pry out their weakness. Stay composed. This shall be a boon. Shall we begin? Shall we begin? Allow me. Allow me. Allow me. Allow me. Let me help. Where was I? Where was I? I do not miss. I do not miss. I will end this. victory is within reach. Allow me. Sound strike. For victory. It ends here. For the honor of House Malford. You leave me with no recourse. Take this. You leave me with no recourse. Huh. The fine results. Victory is not yet out of reach. You leave me with no recourse. Stay composed. No recourse. Cool heads shall prevail. Allow me. I will remember this. YAH! Let me show you what I've learned Let me help Where was I? Time to work For victory My lance strikes true Where shall we strike? I'll make this quick Your orders I'll make this quick There is no mercy on the battlefield A brief respite Tomorrow is a new day Let me heal your wounds Be at ease You have my gratitude Allow me I shall protect you Now then, to work A cold wind blows My turn You leave me with no recourse For the honor of House Wolfort Your orders This will hurt Hello, mate Too slow That hit the mark Let us pry out their weakness Let us steal our defenses Splendid Shall we begin? Your wounds are healed Thank you One step closer to our hope I fight for peace For the good of all Now then, to work Now then, to work I won't lose I will go through I will go through if I must You've left yourself open Defeat is not an option This ends here My goddess I'm not your pawn I'm My skills grow sharper What did you hope to do with our secrets? Sell them for riches No We wished only for freedom in our research Knowing we would be granted no such liberty here We were left with no choice I see You rebel against her teachings As I suspected Take them away You have our gratitude Lord Serenoa We could not have apprehended the heretics without you What will happen to them now? They will be punished for their wrongdoings, of course Defying the goddesses' teachings Is the most grave crime one can commit in Hyazand I see now The equality here Stems from their thorough elimination Of heretics You did well, Corentin For your efforts You deserve a reward Non mi sembra molto convinto Eh, fatemi andare da un'altra parte I wish to embark on a journey I wish to learn more about the medicines of other lands Greater knowledge of medicine would prove useful in our studies of life I will consider it We will take our leave here Master Corentin Thank you for your help today There's something I would speak with you about Do you have a moment? On ma fa linfame Let us talk elsewhere I wish to leave Hyazand Yes I wish to study magic Not medicine But just before you spoke of wanting to observe medical treatment in other nations Era per allontanarsi, ingenio Merely a pretense to gain permission to leave We cannot research freely in Hyazand We are simply tasked with fulfilling our designated roles Furthermore No matter how revolutionary our discoveries may be The world at large will never know them You mean to say you tire of Hyazand's secrecy? You're not much different than those so-called heretics then Could it be you feel some connection with them? E anche se fosse non te lo verrà mai a dire To tell the truth I was well aware of Plinius' plan But I was a coward One who could neither stop nor join them And because of it I ended up capturing those with whom I sympathized I wish never to feel this way again And thus you mean to leave the Holy State entirely? Yes I have no intention of returning to the ministry Which is why I must ask if you would allow me to journey with you As a member of House Wolfort My lord While he may be a unique character He undoubtedly possesses a great understanding of the arcane There is one thing I must know Would you be troubled traveling alongside my betrothed Knowing her heritage? Not at all I'm abandoning Hyazand And the goddess's teachings with it Hmm Non mi sembra molto convinto On the contrary Lady Frederica's magic fascinates me I would love to learn more about it Ah no? Era semplicemente saltato? But of course Very well then Welcome to our ranks, Corentin Pursue your studies to your heart's content I only ask that you put them to use on House Wolfort's behalf Of course You have my thanks, Lord Saranoa H As does You 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 Grazie a tutti. No, c'è una secondaria, interessante. Va bene ragazzi, concludo qui il video. Se vi è piaciuto mettete un like, se volete vedere come proseguire con le varie missioni. Iscrivetevi al canale, ciao ciao! Grazie.